Al di là del risultato, cosa si prova a giocare davanti al pubblico di Trieste? È sempre una bellissima emozione, ho tanti ricordi legati a questa piscina, abbiamo fatto tantissime partite negli anni, non ultima, due anni fa, le qualificazioni per le Olimpiadi fu un'emozione fortissima, Trieste ha sempre risposto alla grande, sia quando siamo arrivati qua con la Nazionale che quando siamo stati qua con la Prodico, quindi è sempre bello giocare qua, c'è tanto calore, la gente è appassionata e quindi è sempre un piacere.